Preside, qual è la situazione qui allo scientifico? Ci sono casi positivi? Abbiamo avuto delle positività nell'arco di questo anno scolastico. Ovviamente siamo riusciti a attivare tutte quelle procedure burocratiche di prevenzione per mettere al sicuro tutta la comunità scolastica. In particolar modo è molto proficuo il rapporto che abbiamo col Dipartimento di Prevenzione con cui ci interfacciamo ovviamente ogni qualvolta accade un caso di positività e anche con delle aziende sul territorio che veramente si stanno dimostrando molto attente perché sono così ricettive anche in orari straordinariamente non proprio consoni per cui a volte capita di dover adottare delle misure anche come stamattina di sanificazione e magari ti capita di avere un'informazione sulla positività di un soggetto magari alle 22 di sé. Però nonostante tutto diciamo che abbiamo sempre cercato di portare avanti con molta responsabilità e anche in via precauzionale tutta l'attività didattica e abbiamo messo sempre al sicuro tutta la scuola. Tenendo conto che tra i giovani è aumentata la pandemia, quindi noi siamo ancora in zona arancione però siamo in una fase molto critica soprattutto anche nei nostri paesi quindi le scuole devono stare molto attenti soprattutto gli istituti superiori. L'attenzione è stata massima indipendentemente dal colore della zona, della nostra regione e anche del nostro territorio. Questo perché in questo anno abbiamo compreso più che mai che non era possibile fare statistica con la medicina. La medicina non è una scienza esatta per cui insomma alla fine non potevamo prevedere alcune dinamiche diciamo relativa ai contagi eventuali. Quindi noi abbiamo affrontato con grande lucidità, con grande senso di responsabilità ogni volta mantenendo la calma e cercando di adottare tutte quelle strategie utili a contenere appunto il contagio stesso. Quindi didattica a distanza con una partecipazione anche nella scuola, che in questi giorni no, ma anche nella scuola, insomma non solo didattica a distanza ma anche in presenza. Sì, questo un pochino dispiace da una parte perché diciamo eravamo carichi di entusiasmo, volevamo riappropriarci della nostra quotidianità, ridare agli studenti quelle opportunità formative che la vita in generale offre e in particolar modo la vita scolastica. È ovvio che dovendo contemperare i due diritti fra il diritto alla salute e il diritto allo studio se sono accaduti insomma dei contagi all'interno della comunità scolastica abbiamo fatto prevalere appunto di volta in volta diciamo le scelte più opportune per mantenere entrambi in vita, entrambi i processi, sia quello didattico che quello di preservare appunto l'incolumità della comunità scolastica.